E' da qui, e' da qui, e' da qui, e' da qui arrivano gli altri. Lea, hai seguito la voce della coscienza, rompendo il codice del silenzio delle mani, quel codice dell'omertà oh a volte quel codice l'abbiamo anche noi perché il problema non sono le mafie siamo noi è la nostra mafiosità è la nostra mafiosità le nostre deleghe il pensare che tutti e tutti gli altri fare e tutti i genizi siamo venuti qui per abbracciarci per abbracciarci e per salutare la tua mamma anche che so che ti costa molto so che ti costa molto ma questa piazza vuoi sentire la tua voce ciao a tutti grazie di cuore di essere venuti oggi per me è un giorno molto difficile ma la forza è una sera grazie per quello che hai fatto per me grazie per me per darmi una vita migliore se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti ciao nanno grazie a tutti 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 le macchine le corruzioni le varie forme di illegalità si utrono innanzitutto di omissioni di coscienze tieghe, accomodate, indifferenti, voi insegnate, voi che siete venuti qui, che il male non è solo di chi lo compie, ma anche di chi non vede, non sente, non parla e non fa.